Benvenuti a questo nuovissimo e primissimo episodio della nostra carriera allineatore con il Modena in Serie A Ecco perché è primissimo, oggi inizia realmente a farsi sul serio questa carriera perché siamo in Serie A come vi ho detto Dopo aver vinto il campionato di Serie B finalmente siamo nella massima serie del calcio italiano Sarà una stagione difficilissima dove combatteremo per noterlo cedere ma questo è il bello Questo è ciò che ci casa di questa unica stagione in Serie A oltre ovviamente al mercato, alle gestioni Al vedere un po' quelli che sono i giocatori che cresceranno, quelli che arriveranno dal vivaio, le regole nuove, gli obiettivi nuovi Tanta tanta roba da fare Prima di andare avanti io vi ricordo che se volete eseguire questa carriera di live al 100% e prendere tutte le scelte insieme a me Vi è Twitch, TheYingXTV, se invece volete sbloccare l'episodio speciale bisogna raggiungere il punto 9k su Instagram I'm not the king, Instagram è importantissimo, è sempre aggiornato e conoscermi al 100% Se invece volete vedermi parlare di altro oltre al calcio vi è TikTok, trovate tutti i link in descrizione e nel commento che sia in alto Adesso immergiamoci all'interno di questa Serie A Prima di andare a vedere tutte le novità per questa nuova stagione parliamo della scorsa Partendo dai Awards Per il gol più bello l'ha vinto il buon Michael Foloruncio con questa bordata con il destro fuori aria contro il Perugia Nel premio di mio acquisto è stata una bella lotta, al terzo posto Franco Nonghià, al secondo Benjamin Garret al primo Yaya Callon anche per la MVP lotta a tre Terzo posto per il cap Marco Benassi Secondo per John Selar e primo back to back di vittoria per quanto riguarda il premio di MVP Riccardo Gagno Parlando invece di record abbiamo come presenza Simone Panada con 75 Mior marcatore Selar con 30 serie disegnate Assistman Marsura con 10 assist Riti inviolate Riccardo Gagno con 26 Marcatore più giovane Niccolò Berardi a 17 anni e 161 giorni Giocatore più giovane Elias Lombardi 2 novembre 2006 Ovvero il più alto Garret 76 Record cartellino pagato Callon 3 milioni e 3 Record cartellino incassato Odei 6 milioni e mezzo Prima di andare avanti vediamo immediatamente quelle che sono le regole per questa stagione Sì perché ce ne sono tante Partiamo da quelle che facciamo noi Prestiti possiamo fare un massimo di 8 prestiti Massimo 6 di questi possono essere i giocatori stranieri Potremmo prendere massimo 1 svincolato Massimo 2 giocatori in precontratto All'interno della rosa dovremmo avere un minimo di 2 giocatori homegrown players Ossia provenienti dalla primavera in questo dal badaggio Per quanto riguarda la primavera stessa potremmo avere massimo 2 osservatori Massimo 3 stelle sia esperienza che giudizio Come vedete non abbiamo già Stefano Ferri Però in questo caso possiamo fare uno strappo alla regola Perché Stefano Ferri ci è stato dato a inizio carriera Quindi non dipende da noi effettivamente Quindi ne prenderemo anche un altro nel corso della stagione E poi c'è il discorso stipendi Che devono essere comunque in linea con quelli della squadra Con il passaggio in Serie A Mi sono permesso di rinnovare un po' tutti gli stipendi Che come vedete adesso sono abbastanza alti Adesso però andiamo a vedere quelle che sono le vere e proprie regole della Serie A Per quanto riguarda il mercato e le liste Innanzitutto vi è la regola della lista da massimo 25 giocatori Ossia quella che all'interno ha i giocatori che vanno dai 22 anni in su E noi attualmente abbiamo 17 giocatori all'interno di questa lista Quindi Gagno, Mattiello, Barba, Caldara che arriverà a Parameto Zero Ponzi, Coppolaro, Panada, Benassi, Teio, Foloruncio, Tonghià, Garre, Marsura, Callon, Giovannini, Celar e Bonfanti A questa lista di massimo 25 giocatori se ne aggiunge un'altra Quella Under 21 che è senza limiti All'interno di questa lista attualmente noi abbiamo 7 giocatori Rossi, Bianchi, Giamas, Berardi, Mertens, Lombardi e Robac Sempre all'interno della rosa dobbiamo avere un minimo di 4 giocatori formati dal club Dunque che hanno fatto almeno un paio d'anni nelle giovanili della nostra squadra E noi attualmente abbiamo Rossi, Bianchi, Mertens, Lombardi e Benassi E sempre all'interno della rosa dobbiamo avere un minimo di 4 giocatori formati dai pivai italiani Dunque non per forza provenienti dalla nostra primavera barra giovanili Ma da quelle delle altre squadre italiane E noi attualmente ne abbiamo tantissimi Gagno, Mattiello, Barba, Ponzi, Coppolaro, Panada, Foloruscio, Tonghia, Marzura, Callon, Giovannini, Robac, Celar e Bonfanti E poi arriviamo al tasto l'olente, una cosa chiave Gli extracomunitari Per quanto riguarda gli extracomunitari abbiamo 3 slot liberi Però è un po' complicata la cosa, non è così semplice Sì, perché come in Serie B se si acquistano giocatori extracomunitari da squadre italiane Lo slot per l'extracomunitario non viene occupato Se invece l'acquisto di un extracomunitario proviene da squadre estere Lo slot per l'extracomunitario viene ovviamente occupato Dunque se si acquista un extracomunitario da squadre italiane Lo slot rimane vuoto Acquista da squadre estere Lo slot viene riempito Lo slot invece si libera solo in caso di cessione dell'extracomunitario all'estero Se invece l'extracomunitario viene ceduto a un'altra squadra italiana Lo slot rimane pieno Noi attualmente abbiamo tutti e tre gli slot vuoti Perché Teio e Callon li abbiamo presi da Benevento e Genova Adesso abbiamo parlato bene di quelle che sono le regole Vediamo un po' quelli che sono i giocatori per la rosa Quelli che ci servono Quelli che mandiamo via Quelli che mandiamo in prestito Per la porta attualmente non toccherà nulla Forse ci serve un secondo magari di esperienza Vedremo poi verso la fine del mercato Però gagno titolare rimane La sinistra per la difesa Mattiello e Giamas Non si muovono Hanno benissimo Sulla destra invece Primo tasto dolente Perché abbiamo Ponzi Che va bene Coppolaro Che lo mandiamo via Dunque ci serve un giocatore che possa fare Sia da titolare Che da riserva Perché Ponzi sta facendo benissimo E dunque non vorrei bloccargli la crescita così In difesa siamo messi bene Perché Berardi Barba Mertens Arriverà anche Caldara Che abbiamo preso al parametro 0 Lo scorso anno E a centro campo c'è da fare un bel discorso Perché abbiamo Panada Benassi Che ovviamente riscatteremo dalla Fiorentina Per 2 milioni e mezzo Deio che manderemo via Perché non ha convinto in B E non può convincere in A E Folorusio che viene scalato a centro campo Perché secondo me Folorusio a centro campo può fare ancora meglio Rispetto a quello che ha fatto da C.O.C A questo punto ci serve almeno un centrocampista Un centrocampista che però sia prettamente difensivo Grosso fisicamente Che sia diverso da quello che già abbiamo Dunque prettamente tecnici Come esplosivo abbiamo solamente Folorusio Un altro come lui ci servirebbe Sulla tre quarti abbiamo Lombardi E Tonghia a questo punto Visto che Folorusio verrà scalato a fare il C.C. Nulla da dire Ci serve un centrocampista Il titolare con Tonghia e Lombardi Che saranno le riserve Sulla sinistra abbiamo Garret Marsura Che se ne andrà E Roba che rimarrà a fare il quarto Barra quinto esterno d'attacco Quindi Garret rimarrà a fare il titolare Ci serve una riserva Anche perché sulla destra abbiamo Callon Che si farei il titolare anche questa stagione E poi giovanini che lo manderemo via Quindi almeno un'ala di riserva ci serve E poi punterei sulla primavera Voglio trovare un'ala dalla primavera molto interessante Un'ala italiana che attualmente ci manca E per quanto riguarda l'attacco Cozziela e Re Bonfanti Direi che vanno più che bene A meno che non ci arrivi qualche offerta eclatante Direi che rimarranno loro due Dunque quello che ci serve attualmente È abbastanza semplice Un terzino destro Un C.C. Un C.O.C. E almeno un'ala Poi si possono aggiungere anche ruoli secondari Come il portiere di riserva E cose varie Ma quello si vedrà nel corso del mercato Per quanto riguarda invece Sposito e Marchetti Li promuoviamo ambe due in prima squadra E li mettiamo tutti e due in prestito Lui mostra ottimo potenziale Sposito Mentre per quanto riguarda Marchetti Ha il potenziale per diventare speciale Bene Vediamo adesso il budget Abbiamo 16 milioni e 2 Con 313 mila di budget settimanale Direi che come prima stagione Come budget va benissimo Gli obiettivi già vi dico E mi fanno un po' storcere il naso Non sono per niente d'accordo con alcuni Ingaggia 4 giocatori per il tuo vivaio Nei seguenti ruoli Portiere, difensore, centrompista e attaccante Complicato ma fattibile Fama del brand Acquista un giocatore chiave prima squadra Il ruolo di centrompista o attaccante Anche questo fattibile E poi questo non mi piace per niente Vendi due giocatori e comprane due giocatori cruciali Per rimpiazzarli Ok Qui ci siamo Va benissimo Termina stagione Spendendo tutto il budget per il mercato Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che poi si arriva a fine stagione Con 0 euro Con un budget per la prossima stagione Sarà ancora meno rispetto a quello che abbiamo adesso E che magari poi non abbiamo neanche i soldi Per rinnovare i contratti Per assumere degli scout nuovi Per portare in prima squadra i giocatori della primavera Per tappare i buchi in caso di infortuni Io voglio evitare un qualcosa di questo tipo Non voglio che sia la classica carriera Dove spendere tutto per forza di cose Perché devi fare il mercato per forza più bello Ma poi te ritrovi senza niente Quindi questa regola molto probabilmente non la rispetteremo La prima in tre anni di carriera E poi successo in patria Molto raristico Perché evitare la recessione Quello che dobbiamo fare quest'anno E terminano la classica in Serie A Entro due stagioni Fattibile Adesso abbiamo detto tutto Abbiamo fatto il discorso delle regole Il discorso degli obiettivi Abbiamo visto chi ci serve Abbiamo visto chi non ci serve Abbiamo messo Marchetti ed Esposito in prima squadra Si riscatta Marco Benassi Allora accettiamo il cruciale per il cap Tre anni Ignoriamo la clausola Direi che siccome il cap Io direi che un bel 25.000 se li merita E te metto un 50.000 Di buono sdinghaggio cap Accetta la cap Pazzo cap 26.000 E a sto punto te do 150.000 Let us re him 31.000 Per cap per cap Quindi se lo merita 30.180 Accetta il cap Cap Non tanto cap Perché ci ha fatto sudà Per sta trattativa Però 30.000 E 180.000 Ci sta alla fine Compensano un po' Quello che abbiamo pagato Ossia pochissimo per Benassi Che un giocatore vale molto di più Rispetto a quei due milioni e mezzo Che avevamo fissato Un anno fa Per il suo riscatto Va bene così Adesso Personalizza club Non ci interessa Il Braille è bello così com'è Si parte Ufficialmente Con il mercato Arrivo il giocatore in precontratto Arrivato Mattia Caldara È felice Coppolaro Mi sto guardando intorno Teio è rimasto un po' sorpreso Non posso garantirti il posto in squadra Luigi è felicissimo Ma appena arrivato Se questo parte così ragazzi Se questo parte così Non mi trovo bene qui Dunque sono felice Sapere che sta pensando Di cedermi in prestito Amarchè Il piano Che noi abbiamo architettato per te In un momento eh In un momento Se siamo capiti Dobbiamo parlare bene Però ragazzi Dello svincolato Perché c'è uno slot Libero per lo svincolato E tocco un attimo Pensarci Perché ci sono vari giocatori Interessanti Ma soprattutto C'è un giocatore in particolare Un giocatore che È sconosciutissimo Che Mi intriga Tantissimo Perché a fine carriera Ha detto che vorrebbe venire A giocare al Modena Quindi io mi trovo Un attimo in difficoltà A dirgli no Sto parlando di Lionel Messi Non ha vinto niente Non è mai stato candidato Per il pallone d'oro Si attrae un giocatore Veramente Mai sentito Proverò a prenderlo Perché si parla comunque Di un giocatore che potrebbe Portare alla salvezza Il nostro Modena Ovviamente sto prendendo Per i c***o Tutti voi che mi state vedendo Non si fanno queste cose qua In tutto ciò Qualca offerta Per i nostri Marchetti Prestito Strasburgo Realismo che non vi è Però Temo che potrebbe essere L'unica offerta Che ci arriva per lui Quindi accettiamo Il prestito in un anno Allo Strasburgo Di Marchetti Se ne va Marchetti Marchetti in prestito Speriamo che cresca Speriamo che torni A fare il titolare Da noi il prossimo anno Oh Coppolaro L'hiamo fatta West Bromwich Un milione e mezzo Per Coppolaro Arrotondiamo a due Andrebbe bene per noi Andrebbe bene per voi Niente Non va bene per loro In realtà Non va bene per loro Quindi ti chiediamo Quello che ci diceva il gioco Un milione e sette Si accetta Anche perché sono arrabbiatissimi Tensione proprio Massimi storici Accetta un milione e 650 mila Vediamo un po' Se il buon Coppolaro Andrà al West Bromwich Per liberare lo slot E a questo punto Per andare a prendere Il terzino destro Se ne va Coppolaro Se ne va Coppolaro Se ne va Coppolaro Allora West Bromwich Un milione e 650 mila Vediamo quanto ci arriva Nelle casse Un milione e due Nelle casse Dopo la cessione di Coppolaro E adesso Andiamo a buttarci sul mercato Abbiamo aspettato 19 giorni E direi che è arrivato il momento Primo acquisto di questa stagione Si tratta di Paolo Ghiglione Che arriva per sostituire Mauro Coppolaro Si tratta Adesso tocca vedere un attimo Se riusciamo a prenderlo Prima di tutto E' un giocatore Che è retrocesso Con la Cremonese In questo salvataggio Si trova in Serie B E' perfetto Per alternarsi con Ponzi Perché quello che noi vogliamo fare Competitività Ponzi Un generale che ha fatto Delle stagioni grandiose E proprio per questo Non andrei a prendere Un titolare fortissimo Perché così Il buon Ponzi Nonostante loro Nonostante tutto Rende benissimo in game E non voglio andare A metterlo ancor più giù Nelle gerarchie Secondo me Ponzi E' un titolare Deve rimanere a fare il titolare Andiamo su Ghiglione Che ha anche delle stats Interessanti Intriganti Il buon Ghiglione Non l'ho mai usato Sono sincero Quindi non so come Potrebbe essere in game Però lo paghi poco E' realistico Quindi va benissimo Anche il titolare Che ti viene a fare Quindi va benissimo Così Contattiamo la Cremonese Va in scadenza Quindi secondo me Lo possiamo prendere A pochissimo Io offro 1.350.000 Marsura No Lo strapaghiamo Va in scadenza Ghiglione Va in scadenza Vieni ci incontro 1.500.000 Bene così 1.500.000 per Ghiglione Pochissimo Alla fine Spendiamo quello Che abbiamo preso Dalla cessione di Coppolaro Turnover 3 anni Ignoriamo clausola Dicite quanto vuoi Vedete che chiedono in più 11.000 ci sta Il bonus d'ingaggio Io te lo abbasserei però Il bonus d'ingaggio lo abbassa 50.000 Ti metto a 12.000 12.000 50.000 Trattativa Rapida Indolore Arriva Paolo Ghiglione Al Modena Acquisto direi Perfetto Quello che a noi serviva Sulla destra Un giocatore che non togliesse Il posto da tirare A Ponzi E direi che Va benissimo Così Credo che qui Una bella A Visto il valore del giocatore Ci sta no? B Vabbè Ce lo prendiamo Ce lo prendiamo Offerta il trascimento Di Giovannini Da parte All'Alania Sport Bene così Ci serve la gestione Di Giovannini Andiamo a trattare I due 40.000 In più 6.30 Di 5.90 Più 1% Accettiamo Giovannini All'Alania Sport Speriamo che accetti La destinazione turca Lui che comunque L'anno scorso È stato in prestito In Turchia Quindi già conosce Un po' Campionato Celar Verder Brema Celar Verder Brema Celar è anche cresciuto Verder è in Bundesliga O in Bundesliga 2 Ce lo vedo benissimo Al Verder Brema Lui Sta in Bundesliga Offerta il 230.000 Per Celar Da parte del Verder Perché ci danno in scambio Marvin Dux Che è un giocatore Di livello molto Molto inferiore Rispetto a Celar Trattiamo però Perché Celar Al Verder Ce lo vedo 13.500 13.500 C'ha già una cifra Comunque importante Va bene così 13.500 13.500 Per Jean Celar Mi sa che il buon Jean Ci saluta Ragazzi miei Gigante di Cragna È stato Un perno Del nostro Del nostro attacco È stato un giocatore Fondamentale In tutti questi anni Ed avrete il momento Di salutarci Gian mio Giamas Ma fammi il piacere Rifiuta Non si muove DD7 Marsura Famalicao Ti chiedo 2-2 Per Marsura Potirchi eh Potirchi 2 Accetta Il rappresentante Il Famalicao Quindi vediamo un po' Se il buon Davide Marsura Andrà in Portogallo Speriamo di sì Giovannini se ne va Quindi Giovannini Va in Turchia Trattativa che ci danno Una Quindi vuol dire Che proprio Più di così Non potevamo fare Andando avanti Andando al 25 Ragazzi È arrivato il momento Di salutare Jean Selar E come sempre Momento drammatico Anche se sono qua sotto E non sono sopra Con la cam Momento drammatico Perché va E viene l'immagine Una pièce Teatrale commovente Questa Dell'addio del gigante Di Cragni Che va in Bundesliga E farà sognare I tifosi del Werder Ti vogliamo tanto bene Jean Si chiude Un'era In quel Del Modena Una A Quindi era il massimo Che potevamo chiedere Con la cessione A male in cuore Di Jean Selar Tocca andare a prendere Il sostituto Il sostituto La chat Ha detto che deve essere Franco Facundes Del Parma Si il Parma è una rivale Del Modena Ma il Parma Il buon Franco Non gioca Perché c'hanno Joelinton come attt titolare Si avete sentito bene Joelinton come attt titolare Al Parma Giocatore il buon Franco Facundes Che non gioca E che dunque Vuole avere più spazio E lo vuole avere In una neopromossa Visto che il Parma Lo scorso anno Era già in Serie A In questo salvataggio L'Uruguaggio Può venire a rubare il posto Per l'appunto Lasciato Libero Vacante Da parte di Jean Selar E' un giocatore 24enne Uruguaggio Che porta la gara charrua 74 di overhaul 6 milioni e mezzo di valore Prende anche uno stipendio Relativamente povero Un 87 di altezza 82 kg il peso Alto e medio Il work rate Stats fisiche Abbastanza complete Pecco un po' In quella che è la reattività E la resistenza Ma ci si può Lavorare tranquillamente E poi Buonissime stats tecniche Completo Buon dribbling Buona avvenizzazione Buon passaggio corto Buon tiro al volo Gran tiro alla distanza Buona potenza tiro E' un giocatore completo Franco Facundes E' anche una faccia Da criminale Andiamo a prendere Franco Facundes 72 precisi per Franco Vediamo un po' cosa ci dice Il rappresentante Del Parma 76 più 6% Allora A causa per la rivendita Secondo me è qualcosa Che si può inserire Nella trattativa 5% Ti abbasso Nuovamente a 7-2 L'offerta 7-2 più 5% Secondo me è un'offerta Molto Ma molto positiva E infatti Accetta il rappresentante Del Parma Adesso lo dobbiamo Trattare con Franco Facundes E questo ragazzi Secondo me è un giocatore Che ci farà sognare Che ci farà divertire Chiede cruciale Ha capito subito Quale sarà il suo ruolo E quindi accettiamo 4 anni Vanno bene Accettiamo anche i 4 anni Di contratto Ignoriamo la clausola E adesso Tocco offrire Lo stipendio Lui prende 25.500 25.500 Secondo me è uno stipendio Buono Per un giocatore Che viene a fare Il titolare da noi Arrotondando 26.000 Gli metterei anche Un bonus di ingaggio Franchino il criminale Sì Franchino il criminale È perfetto Come soprannome per lui Se non sopranniamo lui Franchino il criminale È finita ragazzi 26.000 Più 50.000 Di bonus di ingaggio Franco Facundes Pensaci bene Pensaci bene Pensaci bene Franco Arriva Franchino il criminale In quel di Modena È un nuovo canarino Franco Facundes Garra Ciarrua Non occupa nemmeno lo slot Da extra comunitario Ma di cosa stiamo parlando Eccolo qua Completo blu elettrico Callone e Garre Che dicono Ok A lui gli dobbiamo mettere Un paio di cross fatti bene Mi raccomando Pensaci Mi raccomando Rerleone Fate quello che dovete fare Quindi si prende il 14 Franco Facundes Valorazione prezzo Da Piena Come direbbe qualcuno Ottimo a fare Franco Facundes Sottopagato In modo clamoroso Se ne va a Marsura Se ne va anche Davide Marsura ragazzi Marsura ceduto per 2 milioni In Portogallo Al Famalicao Bene così Dunque ceduto Il buon Davide Marsura Adesso ci simuliamo La partita Contro il Colonia Che sicuramente Mi dimenterò di mettere nel video Ma simuliamo 2 a 0 Vinciamo Ottimo Ottimo così Offerta da parte Del Feyenoord Per Andres Teio E quindi Si tratta Questa è un'occasione Che capiterà mai 4 e 4 Andiamo troppo più là Ma andiamo a trattenerci un pochino 3 e basta 4 4 milioni Bastava abbassare i 400 mila 4 milioni per Teio Sono Ottimi Ottimi È una plus valenza Perché lo prendemmo a pochissimo Cosenza Vinciamo anche contro Cosenza Tanto adesso si arriva all'uno Stefano Ferri Prima volta di quest'anno L'abbiamo mandato in Italia 3 mesi per cercare un'ala Torna Con qualcosa di interessante Umberto Longo Che dirò Non è male Stiamo a cercare Mi trovo in terzino Daniel Bellini Non è male Prendiamo Fabio Miranda Come secondo osservatore Bene così Fabio Miranda Lo mandiamo per 3 mesi In Albania Vediamo un po' Come andrà Faccio questo regalo Ai ragazzi che mi eseguano Albanesi Che è un paese Che a me sta tanto a cuore L'Albania Teio Se ne va Se ne va Teio Se ne va Andres Teio Niente Non ci fanno vedere niente Anche perché c'è poco da vedere Tra almeno una B Ce la meritiamo E invece no Ci prendiamo una A Ma allora si gode tantissimo Il prestito di Esposito Al Barley Realismo che non esiste Però ripeto Purtroppo i prestiti funzionano male Su sto gioco Quindi ho tanta paura Che poi non Non ce ne arrivi nessun'altra L'offerta per il prestito di Esposito Quindi mettiamo un anno secco Se ne va Teio E forse arriva Jesus Castillo Sfruttiamo Lo slot Per lo svincolato Con il buon Jesus Perché sembra essere Il giocatore più conveniente Alla causa Modena Ha delle stasi intriganti Perché dal punto di vista fisico È forte fisicamente Ha una buonissima aggressività Resistenza E visione Poi dal punto di vista tecnico È un bel mix Perché è un incontrista Ma al contempo Un incontrista con i piedi buoni Tramite il recupero di palloni Secondo me questo Sarà un giocatore fondamentale Per quanto riguarda la tecnica Abbiamo già Benassi Panada Foloruncio Per quanto riguarda Il giocatore offensivo Abbiamo Foloruncio Per quanto riguarda I difensivi Non ce ne abbiamo Quindi Castillo sarebbe perfetto Andiamo su Jesus Importante 5 anni E non vedeva proprio l'ora E non vedeva proprio l'ora 13 e mezzo 135.000 20 presenze 290.000 Allora Molto di meno rispetto a quello Che ci diceva il gioco Molto di meno Io ti alzo a 14.500 E ti metto a 150.000 E arriva Jesus Castillo Al Modena A Paramoio Zero Arriva il peruviano Se ne va al sudamericano Ne arriva un altro Jesus Castillo Nuovo giocatore Dei Canarini Ah perché è da svincolato Però perché non ci hanno fatto Vedere la scenetta Scusatemi Sono offeso per lui Mi sento offeso per lui Adesso arriva Castillo Ok Si vede che dal Perù Comunque Voli per Modena Non ve ne erano Prestato esposito Vabbè Sta succedendo di tutto Direi di chiudere qua Ci mancano Almeno un'ala di riserva E un bel ciocci titolare Lo faremo Nel prossimo episodio Io vi ringrazio Per seguire questo video Vi ricordo che Se volete seguire questa carriera Like in descrizione Nel commento Vi sale in alto Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti